bene allora iniziamo a lavorare all'interno di Udini con le mappature la prima cosa da fare però che voglio fare è un attimino andare a ritoccare l'area di lavoro che se avete già visto il corso precedente sapete già come poter elaborare e salvare vari desktop all'interno di Udini ad ogni modo io vado un attimo molto velocemente a organizzarmi un'area di lavoro differente da quella di default perché voglio avere lo spazio per la mia network lo spazio per i parametri con P da tastiera la possibilità di richiamare i parametri quindi richiamare tutti quelli che poi saranno volta a volta visti visualizzati al momento della selezione dei vari operatori e un'altra cosa che voglio andare a fare è andare a dividere questa nostra viewport in due parti per dividerla in due parti posso tranquillamente con CTRL 4 la tastiera oppure da questa icona qua su in alto posso scegliere come dividere la mia viewport quindi CTRL 4 la tastiera andiamo anche a cambiare il colore di sfondo perché quando andiamo a lavorare con le mappe è l'ideale è in questo caso avere uno sfondo scuro comunque uno sfondo che non sia come il light con un gradiente questo è un po' una comunità mia personale io molto spesso lavoro con lo sfondo scuro e in questa parte qui invece mi vado a inserire quindi dalla top vado a scegliere il set view posso andare a scegliere l'EUV quindi 5 la tastiera oppure sbarra spaziatrice 5 sbarra spaziatrice 4 ho la right sbarra spaziatrice 5 ho 5 direttamente 4 e 5 ho la nostra viewport la nostra viewport che in questo caso di default nelle ultime versioni di Udini viene già assegnata una texture una texture in checker questo checker è molto importante perché aiuta a lavorare all'interno di Udini per capire se la nostra mappatura è uniforme oppure no quindi se è continua oppure no ad esempio quindi adesso vedremo con degli altri esempi durante il videocorso di come poter lavorare di fatti utilizzando queste mappe checker voglio fare però un piccolo passo indietro prima di andare avanti e spiegarvi l'Uvimap perché voglio farvi vedere come poter convertire e utilizzare al meglio all'interno di Udini un determinato formato magari qualcuno di voi ha notato che quando si vanno a caricare delle mappe all'interno di Udini per esempio carichiamo la mappa di sfondo mettiamo caso che vogliamo caricare qui uno sfondo nostro per esempio una nostra mappa di checker quindi di da tastiera e ho la possibilità qua in fondo di scegliere una mappa una mappa particolare una mappa per esempio per le Uv posso cliccare su un nostro questo è questa icona che abbiamo qui che permette di andare a selezionare e aprire il browse all'interno di Udini abbiamo la possibilità qui di dare già delle pic quindi delle picture che sono nient'altro che delle immagini delle immagini posso mostrarle come sequenze oppure perché io potrei caricare anche una sequenza animata oppure direttamente senza le nostre sequenze ad ogni modo notiamo che abbiamo un formato un po' particolare che è il RAT questo formato qui è un formato pensato e ideato proprio all'interno di Udini quindi è ottimizzato per Udini di conseguenza se voi dovete andare a realizzare dei render quindi dovete realizzare dei render ad alta qualità o comunque dovete utilizzare delle mappe particolari e volete che siano ottimizzate per Mantra che è il motore di rendering interno di Udini dovete andare a convertire e utilizzare o comunque sarebbe meglio poter utilizzare queste mappe in formato RAT logicamente questo formato qui non è che se io lavoro in un programma di foto di tocco ad esempio Photoshop o Gimp o altri ancora non è detto che questo formato sia universale che quindi si possa salvare per esempio da un programma di foto di tocco in questo formato qui quindi che cosa bisogna fare? si può andare a convertire una qualsiasi immagine che abbiamo noi per esempio sul desktop abbiamo una cartella con delle immagini texture che sono dei checker che adesso andremo a vedere che posso convertirli direttamente in formato RAT da per esempio un JPEG, un PSD o altri ancora per convertirli posso utilizzare una utilities che trovo all'interno di Udini quindi se io vado a vedere per esempio il browser sul nostro browser qui ho praticamente la documentazione online di Udini e la potete ricercare tranquillamente cercando con Google documentation Udini la versione che state utilizzando e vi verrà fuori per esempio la pagina della sede FX ad ogni modo qui all'interno quando io vado a installare Udini ho la possibilità di avere anche delle standard utilities come abbiamo visto nel primo corso, nel primo capitolo abbiamo delle utilities che ci aiutano a visualizzare le geometrie oppure le sequenze di immagini o altro ancora ad ogni modo all'interno di Udini abbiamo altre utilities che possiamo richiamare da riga di comando queste utilities sono diverse tra di loro per esempio c'è il converter, iConverter o l'AsoXXPack che permette di convertire e creare volendo delle immagini a cubo, cubiche quindi delle immagini a cubo che solitamente si vengono utilizzati in altri ambiti per esempio con l'Unreal Engine che possiamo con tutti i motori di rendering in virtual reality come Unreal, Unite, 3D eccetera possono sfruttare per esempio queste mappe per ricreare un attimo l'ambiente circostante ad ogni modo io non voglio mostrarvi come poter fare questa conversione con la riga di comando perché non sempre funziona direttamente quindi il passaggio che possiamo fare ad ogni modo con il converter vediamo che basta praticamente aprire la nostra shell di comando che troviamo sotto Windows Shell e praticamente è il CMD di Windows per esempio oppure il terminal se utilizzate un sistema iOS o per esempio un sistema basato su Linux o Unix è quindi un CMD, un terminale dove noi possiamo andare a richiamare tale software per poi fare tali conversioni ad ogni modo non è questo quello che voglio mostrarvi perché in Windows ha un funzionamento diverso rispetto a Linux e francamente non è proprio un'operazione che si fa sempre cioè conviene quasi sempre non utilizzare il RAT perché? perché spesso capita che magari quella determinata texture quel determinato lavoro che facciamo magari andiamo a esportare il modello per un altro oggetto ad ogni modo magari è sempre bene avere una texture diversa che magari mi rallenta leggermente poi oggi come oggi con la tecnologia che abbiamo adesso con la velocità che abbiamo adesso non è così evidente questa perdita di tempo questa ottimizzazione però voglio mostrarvi voglio mostrarvi come poter perché magari vi serve potrebbe servirvi nella vita sapere come poter convertire un'immagine ad esempio possiamo crearci una una network per il del compositing quindi con network e al suo interno andare a caricare un image quindi tramite il file e tramite il file posso andare a richiamare ad esempio un'immagine questa ok che vediamo direttamente nel compositing nel nostro viewer e poi la posso andare a scrivere quindi posso creare un ROP e con questo ROP da questo ROP gli vado a dire innanzitutto di essere il current frame quindi una sola immagine e gli vado a dire dove andare a salvare quindi il nostro output andiamo a salvare la nostra immagine in formato write e andiamo a fare render ok abbiamo una risoluzione troppo alta quindi la nostra immagine è troppo alta naturalmente andiamo a abbassarla un po' la vado a renderizzare andandola a renderizzare ottengo praticamente il mio file in RAT infatti se io vado a vedere nella cartella dove ho salvato avrò anche il file RAT e questo file RAT è sostanzialmente la stessa identica mappa che io posso aprire ne aprirà nel viewer è la stessa identica mappa che ho salvato precedentemente però è nel formato convertita nel formato che è ottimizzato per Udemy logicamente quando vado a fare questa conversione se utilizzo la versione Apprendice che è quella versione che utilizzerò durante il corso logicamente viene impresso anche il logo e la risoluzione di uscita non può essere molto elevata ad ogni modo un altro sistema è quello di poter caricare direttamente nel nostro viewer un'altra immagine per esempio questa e andarla a salvare direttamente dal viewer quindi save frame as e qui io posso dare RAT logicamente riduce la dimensione però ritrovo qua la mia immagine salvata eccola qui in formato RAT in questo modo io la posso poi ricaricare all'interno dei materiali all'interno di Udemy ed essere sicuro che essa sia ottimizzata per lavorare con Udemy stesso naturalmente io dall'imagine viewer posso anche esportare in altri formati e all'interno della guida di Udemy trovo tutti i formati compatibili e tutta la descrizione dei vari formati che posso utilizzare all'interno di Udemy stesso logicamente qui nel RAT troviamo una grande descrizione una intensa descrizione che praticamente ci racconta un po' la storia e le caratteristiche di questo formato e le caratteristiche l'interno di Udemy a un'interno di Udemy Grazie.